Tra poco Sul canale 17 di Fanno TV, l'informazione locale Moldavo ricercato dai carabinieri e arrestato per furto in un negozio a Pesaro Ecco la nuova banconota da 50 euro in circolazione da domani in 19 paesi dell'Unione Europea presentata al comando provinciale della Guardia di Finanza di Pesaro La passeggiata dell'Isippo si rifà il look con i murales dei ragazzi delle scuole grafiche e artistiche di Fanno Primavera è tempo di allergie, tutti i consigli dell'esperto L'Alma Juventus Fanno pareggia col Mantua e resta a gala Nel primo tempo scontri tra tifoseria in curva, la società condanna gli episodi di violenza e invita tutti all'Unione Fra poco gli aggiornamenti nella pagina sportiva Cari telespettatori di Fanno TV, buonasera e benvenuti a questa nuova edizione di Occhio alla Notizia Lo avete sentito dai titoli, è stato arrestato in flagranza di reato un giovane moldavo sorpreso a rubare un paio di jeans al centro palace di Pesaro Il 22enne era ricercato, pensate, dall'aprile 2014 per furto aggravato in abitazione Nella giornata di ieri i carabinieri della stazione di Borgo Santa Maria hanno arrestato in flagranza di reato Un 22enne moldavo privo di documenti ritenuto responsabile assieme ad un complice connazionale e minorenne di tentato furto aggravato Lo straniero è stato sorpreso dagli addetti alla vigilanza e così anche dai militari dell'arma all'interno del negozio centro palace Immediatamente dopo aver asportato un paio di jeans del valore di euro 150 Dal quale aveva rimosso la placca antitaccheggio utilizzando una tronchesina che portava addosso Nelle vicinanze del negozio veniva rintracciato dai carabinieri anche il complice di 16 anni Trovato in possesso di un arnese da scasso identico a quello rinvenuto addosso al connazionale Dalla perquisizione inoltre a casa del minore a Pesaro nascosti all'interno di un borsone I militari hanno rinvenuto numerosi capi di abbigliamento di marca, magliette, giubbotti, pantaloni, felpe ed altro Per un valore di almeno 1000 euro che naturalmente veniva sequestrato dai militari dell'arma Inoltre lo straniero veniva arrestato anche dovendo scontare una pena di un anno e tre mesi e 29 giorni di reclusione Per il reato di tentato furto aggravato in un'abitazione L'arresto che in fragranza di reato è stato convalidato nella mattinata odierna da parte del Tribunale monocratico di Pesaro Lo ha condannato a seguito di patteggiamento alla pena di mesi 10 e giorni 20 di reclusione nonché a 360 euro di multa Continuano però le indagini dei carabinieri per risalire ai proprietari dei numerosi capi di abbigliamento recuperati Ed il Moldavo dovrà rispondere anche di ricettazione e false dichiarazioni sulla propria identità personale Il minore invece è stato denunciato alla procura dei minorenni di Ancona per tentato furto aggravato in concorso E da domani entrerà in circolazione la nuova banconota da 50 euro serie Europa Dopo i tagli da 5, 10 e 20 euro si continua quindi a rendere sempre più sicura la nostra moneta contro la contraffazione Ma sentiamo tutti i dettagli nel servizio di Fabrizio Naticchi Entreranno in vigore domani 4 aprile le nuove banconote da 50 euro Come ha annunciato stamattina a Pesaro il colonnello della Guardia di Finanza Antonino Raimondo Nell'ambito di una campagna di informazione e comunicazione promossa dalla Banca d'Italia E che anche tramite la formazione delle forze dell'ordine è finalizzata alla fiducia dei cittadini La banconota che rappresenta uno dei tagli più impiegati assieme a quella da 20 euro È per questo più soggetta a falsificazione e ha dunque più bisogno di essere migliorata nel tempo Modificandone le sue caratteristiche di sicurezza Pensate all'anno scorso 2016 oltre il 43% delle banconote false erano tagli da 50 euro Poco più del 30% erano i tagli da 20 euro Quindi quasi un 80% circa delle banconote false sono tagli da 50 prevalentemente da 20 Ed è importante che i cittadini forniscano immediatamente con tempestività alle forze dell'ordine Tutti quegli strumenti tali di riconoscimento di chi ha fornito questa banconota Perché non dobbiamo immaginare la spendita di banconote false come una fase marginale Dobbiamo immaginarla come un aspetto marginale all'interno di un sistema criminale organizzato Rinnovamento grafico dunque ma non solo La nuova serie infatti denominata Europa è stata progettata considerando l'ingresso di nuovi paesi in Unione Europea dal 2002 E per i più curiosi anche una chicca che andrà a valorizzare il nostro patrimonio artistico I particolari grafici richiamano monumenti essenzialmente rinascimentali italiani Ne abbiamo quattro Che può essere un buon gioco per andarsene a ricercare Bisogna conoscere bene i monumenti italiani E trovare quel particolare Dice ma questo qui coincide In effetti è stato volutamente ripreso Motivi architettonici diciamo del nostro rinascimento Migliorata dunque la finestra olografica Che sarà trasparente per inibire le riproduzioni Potenziato il sistema di calcografia che permette agli ipovedenti di riconoscere la banconota Sarà usato un inchiostro cangiante difficilmente acquistabile e reperibile Così come la filigrana che darà maggiore profondità alla banconota E infine l'utilizzo della carta di cotone che impedisce il riflesso Invito dunque sempre aperto nei nostri portafogli per i nuovi 50 euro E per la vecchia banconota l'agurio di un felice pensionamento Andiamo avanti parlando del partito democratico Perché è terminata la fase congressuale anche del partito fanese Che ha visto avvicendarsi otto congressi di circolo L'ultimo si è tenuto domenica alla presenza di due esponenti nazionali del PD La senatrice Camilla Fabri e il vicepresidente del PD nazionale Matteo Ricci A Fanno su 514 iscritti hanno votato in 263 pari al 51,16% Matteo Renzi ha ottenuto 180 voti Andrea Orlando 76 mentre Michele Emiliano 5 La tensione ora si sposta verso il 30 aprile giorno delle primarie Aperte oltre che agli iscritti a tutti gli elettori PD Che potranno partecipare al percorso di elezione del segretario nazionale E candidato a premier A breve verranno comunicati i seggi e le modalità di votazione Adesso cambiamo argomento perché la passeggiata del Lisipo sarà decorata con dei murales Grazie a una collaborazione fra Marina dei Cese e circa 50 studenti degli istituti Olivetti e Seneca Il servizio di Filippo Pucci Un segno decorativo, un segno di integrazione con la comunità, il territorio e la sua promozione Quello dei 49 studenti delle scuole grafiche di Fano Olivetti e Seneca Che avranno il compito questa volta di realizzare un murales sul muro paraonde in cemento armato Della passeggiata dell'Isipo di Fano della Marina dei Cesari I metri totali che vedranno coinvolto questo progetto saranno circa 500 E il tema scelto e fonte anche di ispirazione dei bozzetti è quello dell'orizzonte Grazie alle letture di brani, episodi della storia su quest'arte decorativa E incontri con i protagonisti del mondo della navigazione Questa è un'opportunità che ci è stata data veramente grande Quella di rafforzare questo legame della scuola con il territorio Per un qualche cosa che poi rimarrà nella città di Fano E quindi spero che diventi poi anche un segno di quello che questi studenti Così ben guidati e stimolati dai loro docenti sono riusciti a fare E hanno anche sperimentato questa prova che hanno realizzato su carta L'hanno sperimentata sulle pareti della scuola Ora credo che per loro sia un'esperienza veramente significativa Anche perché è alternanza scuola-lavoro Questa alternanza scuola-lavoro che ormai la legge 107 ha definito in tutti i particolari E quindi è una modalità per loro sia di mettersi alla prova rispetto a quelle che sono le loro abilità Le loro competenze e sia anche di rimotivarsi rispetto ad un percorso scolastico che stanno vivendo Anche il comune oltre ai privati contribuisce alla realizzazione di queste opere Che saranno riproposte in altre occasioni Questo è un percorso che abbiamo iniziato come amministrazione A partire dai murales della stazione che molti cittadini hanno già visto e apprezzato Sempre con i ragazzi delle scuole superiori Abbiamo in mente anche altri luoghi, anche altri luoghi sportivi Alcuni sottopassi, sottopassaggi Che stiamo immaginando colorati con la freschezza e l'originalità che i ragazzi sanno dare A Mondolfo invece si sono aperte le celebrazioni in occasione del quinto centenario dell'assedio di Mondolfo E dell'istituzione della giornata della memoria mondolfese Il calendario delle iniziative ha preso il via questa mattina Con il coinvolgimento degli alunni dell'istituto comprensivo Enrico Fermi Gli studenti hanno presentato una serie di elaborati realizzati sul tema dell'assedio Questa sera invece nella sala del Consiglio Comunale Alle ore 21 si svolgerà un altro appuntamento aperto a tutti Con la suggestiva lettura dei brani del Cinquecento Tratti sempre dalle cronache dell'assedio E per un italiano su tre l'arrivo della bella stagione è associato anche alle allergie primaverili Ma sentiamo i consigli dell'esperto nell'intervista che ha realizzato per noi Lino Balestra Per il 33% degli italiani questo bellissimo periodo dell'anno può trasformarsi in un autentico calvario Naso che cola, starnuti, occhi che lacrimano Su un campione di mille italiani il 40% dichiara di soffrire di una qualche forma allergica E le proiezioni a livello internazionale stimano che entro il 2020 Le allergie interesseranno la metà della popolazione Secondo la società italiana di allergologia E primavera uguale allergie ormai è solo un luogo comune Anche se si associa primavera con allergie ormai le allergie si diffondono in qualsiasi periodo dell'anno Quindi ci sono allergie da pollini invernali, pre-primaverili, primaverili, estivi e quasi autunnali Quindi gli unici mesi in cui non ci sono allergie da pollini sono novembre e dicembre per lo più Come si deve comportare in questo periodo il paziente allergico? La prima norma è tenere, che capisco che è più facile dire che fare Ma tenere le finestre chiuse nel periodo dei pollini a cui uno è allergico Quando le donne vedono le belle giornate cosa fanno? Aprono le finestre e tengono sempre le finestre aperte Questo comporta che i pollini che sono fuori entrano in casa E quindi il paziente poi è costretto a respirare i pollini in casa Anche quando fuori non si trovano perché magari ha piovuto E quindi sono stati abbattuti al suolo Seconda cosa, per lo stesso motivo Quando le donne vedono le belle giornate Mettono fuori tutte le cose del letto sul davanzale Lì si depositano i pollini E quindi chiaramente poi quando si va a letto si respira i pollini E la mattina si sternutisce Terza cosa, infine dopo una giornata passata all'aperto Noi senza saperlo Ci riempiamo di pollini E quindi i pollini si appiccicano nei capelli Si possono appiccicare alla pelle E si possono appiccicare agli indumenti Especialmente barba, baffi eccetera Quindi è buona norma quando si rientra in casa Se è possibile farsi uno shampoo In maniera da rimuovere tutti i pollini che si appiccicano nei capelli Lavarsi molto spesso il viso Con acqua corrente E lasciare quantomeno gli indumenti fuori dalla camera da letto Esistono terapie specifiche a riguardo? La terapia consiste sia nello spray nasale Che è uno steroide topico Sia nell'antistaminico che devono essere presi Però tutti e due insieme Molti pazienti anche qui sbagliano Perché prendono solo l'antistaminico Evitando quindi di reintegrare e curare il naso Che invece deve essere a posto E questo si ottiene solo attraverso l'uso dello steroide topico L'altra cosa importante sono i lavaggi del naso Che chiaramente, specialmente se fatti la sera Hanno un effetto meccanico Per cui rimuovono i pollini Che durante la giornata si posizionano al naso La salute è un diritto costituzionale Il titolo dell'incontro pubblico Organizzato da Lampi Che si terrà questa sera alle ore 21 Nella sala della Concordia del Comune di Fano Con la partecipazione di Emergency E dell'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi E degli Odontroiatri L'iniziativa fa parte del ciclo Una mattina mi sono svegliato Con cui ogni anno Lampi celebra L'anniversario della Liberazione E l'edizione 2017 è dedicata all'approfondimento Di alcuni diritti costituzionali Compreso il diritto alla salute Dopo gli interventi degli esperti Seguirà un ampio spazio per il dibattito Aperto alla cittadinanza In occasione invece della BIT La Borsa Internazionale del Turismo di Milano Nello stand della Regione Marche Si è svolta ieri la conferenza stampa Di presentazione del territorio E dei maggiori eventi della provincia di Pesaro e Urbino Insieme al sindaco della città ducale Maurizio Gambini All'assensore, alla rivoluzione Vittorio Sgarbi Il vice sindaco di Fano Stefano Marchegiani Ha illustrato le attività turistiche E le principali manifestazioni in programma Per la prossima estate Fra queste il Festival Passaggi Il Fano Jets by the Sea Il Festival del Brodetto E le date 2018 del Carnevale di Fano Non potevano mancare alcuni cenni Al pesce, ai formaggi, all'olio dopo Al tartufo e alla moretta fanese Ad accompagnare la delegazione del Comune di Fano Il Presidente di Alberghi Consorziati Luciano Cecchini Inoltre è stata presentata la mostra Curata dalla critico Sgarbi Intitolata Rinascimento Segreto In mostra capolavori da collezioni private Che dal 13 aprile al 3 settembre Nelle tre sedi espositive di Fano Pesaro Urbino Prevede appunto l'esposizione di decine di opere Tra dipinti, sculture e oggetti Dall'inizio del 400 Alla metà del 500 Di proprietà di fondazioni bancarie Istituzioni e collezionisti privati E adesso come ogni lunedì ci colleghiamo con Matteo Del Vecchio Per gli aggiornamenti sportivi Grazie Simona Per ieri è stata la paura di perdere È visto con cauto ottimismo nell'ambiente Granata Squadra che comunque anche ieri ha dimostrato di essere sul pezzo E non aver nessuna intenzione di alzare bandiera bianca Nella sfida del Mancini In parte rovinata dal parapiglia tra tifosi Granata Scoppiato in curva a metà del primo tempo E da cui la società si dissocia Invitando i tifosi all'unione e alla compattezza È il Mantova a creare di più Anche se di palle gol nella prima frazione Se ne contano davvero poche Al dodicesimo della ripresa poi Il Guizzo che cambia l'inerzia della gara Il Fano tornato in campo con un altro piglio Mette all'angolo gli ospiti E Vinetot per fermare Fioretti lanciato da Gualdi È costretto ad usare le maniere forti Per l'arbitro è calcio di rigore Lo specialista germinale non calcia benissimo Ed esalta Tonti Che nulla può però sul tapin del bomber Granata Che porta avanti i suoi Sodigna al ventottesimo scalda i guantoni di Menegatti Che non può nulla un minuto più tardi Quando il neo entrato Caridi da fuori area Indovina l'angolo giusto e fa 1-1 L'ultima emozione del match La regala il difensore Mantovano Diabì Che sul cross di Taino al quarantatresimo Per poco non mette a segno il più clamoroso degli autogol Come detto in precedenza Nei piani bassi della classifica Vincono Lumezzano e Teramo E la lotta per la salvezza si fa sempre più entusiasmante Sette i punti che separano l'alma dalla retrocessione diretta E due quelli per uscire dai play-out E la frase d'ora in avanti è come se fossero tutte finali appare tutto tranne che una frase fatta Mercoledì intanto gli uomini di Cuttone saranno di scena a Gubbio Per il turno infrasettimanale Una giornata che metterà di fronte anche Mantov a Forlì e Ancona a Teramo Due scontri diretti nel quale l'alma potrebbe approfittare per uscire dalle sabbie mobili della classifica E anche nel campionato di calcio a 5 Il finale è quanto mai incerto con le squadre fanesi impegnate nel campionato nazionale di Serie B Che decideranno il loro destino tutto all'ultima giornata Le due sconfitte in cui Alma Juventus ed Etabeta sono incappate sabato scorso Pesano come macigni nell'economia della classifica Che vede appaiate le fanesi a quota 23 3-1 il punteggio con cui l'alma è stata superata in trasferta dal Cus Ancona Una sconfitta della quale avrebbe potuto approfittare l'Etabeta Che invece in casa è stata battuta dal Corinaldo per 5-2 Facendosi agguantare in classifica e rendendo così incandescenti gli ultimi 40 minuti della stagione Il regolamento infatti prevede la retrocessione diretta per le ultime tre classificate E i play-out per la quart'ultima e la peggior quint'ultima tra tutti i gironi della B Ed appare quindi evidente come le sfide Alma Todi e Angelana Etabeta di sabato prossimo Possano valere una stagione In campo femminile invece non riesce l'impresa al Flaminia Fano Che perde il big match con Rambla Padova per 5-0 consegnando la vittoria del campionato di Serie A E il passaggio alla Serie A d'Elite alle patavine Domenica prossima sfida interna decisiva contro il Decima Sport Per cercare di mantenere il secondo posto che significherebbe play-off E chi invece non è riuscito a centrare l'obiettivo play-off È la Virtus Fano nel campionato di volley di Serie C maschile Sfuma il sogno del salto di categoria per la giovane formazione fanese Ma arriva alla certezza della permanenza in C grazie alla bella vittoria per 3-2 sulla capolista Appignano Chiude invece con una sconfitta l'Apav Calcinelli Lucrezia in campo femminile Un 3-1 casalingo contro Amandola ininfluente ai fini della classifica Con le arancionere già matematicamente retrocesse in D già dalla scorsa settimana Ed è ininfluente ai fini della classifica anche se pesa sul morale Anche la sconfitta del Fano Rugby impegnato ieri nel sesto turno dei play-off promozione Il sogno Serie B dei padroni di casa di Macerata ha la meglio sulla leggerezza mentale dei fanesi Squadra nemmeno lontana parente di quella scesa in campo nelle scorse settimane È capace di accarezzare il sogno del salto di categoria Al fischio finale il tabellino segna 47-17 per Macerata E fanesi chiamati al riscatto già da domenica prossima Quando al Falcone Borsellino arriverà la capolista Cus Ferrara Prima dei saluti finali questa sera vi vogliamo parlare del CSI Fano Ente di promozione sportiva radicata sul territorio e protagonista in questo ultimo periodo di due belle iniziative È stata una grande festa di sport quella andata in scena al Palazzetto dello Sport di Fano nei giorni scorsi Grazie al Comitato Provinciale di Pesaro Urbino Oltre 200 ragazzi hanno dato vita infatti alla giornata dello Sport & Go Attività promossa dal CSI nazionale per avvicinare i più piccoli allo sport E ripresa dal Comitato Territoriale di un ente che da sempre porta avanti i sani principi di educazione e aggregazione giovanile Il progetto ha visto i responsabili CSI impegnati da settembre nelle scuole elementari della città Dove con i più piccoli è stata svolta attività motorie di avviamento allo sport Mentre con i più grandi sono stati organizzati veri e propri tornei L'attività del CSI Fano e di Sport & Go dopo la festa al Palazzetto dello Sport Proseguirà fino al termine dell'anno scolastico negli istituti di Fenile, Sant'Orso, Nuti e Bellocchi Domenica prossima invece, sempre grazie all'ente presieduto da Marco Pagnetti A Fano arriverà la Gazzetta Cup, manifestazione giovanile di calcio promossa dalla Gazzetta dello Sport Due le categorie in gara, Young, in cui si affronteranno i nati nel 2007-2008 E Junior, riservata ai 2005-2006 Per saperne di più è possibile contattare gli organizzatori all'indirizzo csi-pesaro-gmail.com L'indirizzo invece al quale inviare le vostre segnalazioni ormai lo sapete bene che è sport-fanotv.it Dalla redazione sportiva anche per questa sera è tutto L'augurio a tutti voi di una buona serata Bene, grazie Matteo, quella pagina sportiva si chiude qui il nostro telegiornale Vi ricordo anche il numero che fra poco vedrete in sovraimpressione e che è dedicato alle vostre segnalazioni per noi sempre molto importanti Per l'informazione è tutto, buon proseguimento di serata, arrivederci Grazie a tutti